Come andare in buca il 100% delle volte con le ragazze? Chiariamo un attimo, prima di tutto cosa intendo, ovviamente con andare in buca intendo il sesso, non il numerino di telefono, non il bacino della buonanotte, poi non ci si rivede più e si va sempre in bianco E intendo all'appuntamento, ok? Non come riuscire a far andare sempre bene tutti quanti approcci il 100% delle volte, quello non esiste Vorresti vivere un'esperienza unica che ti trasformerà in un uomo top 1% in grado di finire a letto con qualsiasi ragazza a tua voglia in poche ore, grazie alla guida di un esperto che ti dirà cosa dire e cosa fare in tempo reale? Se si, trovi tutto questo nei nuovissimi corsi dal vivo a Dubai direttamente con me, Luca, fondatore di approachala.it Per chi si iscrive entro il 30 novembre riceve due bonus, il primo è il nuovo videocorso inedito, Rimorchiare a Dubai, e il secondo è un giorno di corso extra in regalo dal valore di 1500€ Le iscrizioni chiudono il 30 novembre o esaurimento dei tre posti disponibili Clicca sul link qui sotto in descrizione per maggiori informazioni Hai domande o dubbi? Scrivi gratis su WhatsApp a un nostro consulente esperto, anche qui trovi il link cliccando qui sotto in descrizione Ok, però per quanto riguarda la parte di appuntamento, in realtà nel momento in cui diventi capace, diventi competente Non dico in realtà il 100% delle volte, gli appuntenti vanno sempre bene, però di base il 90-95% delle volte vanno sempre bene gli appuntenti Nel momento in cui sviluppi competenza, gli approcci, chiunque ti dica che si, puoi approcciare le ragazze Che sia di giorno per strada, che sia in discoteca, che sia su Tinder, tutte quante, tu decidi, magari uno che è super esperto Un esperto a livello mondiale, fa non so, 10 match su Tinder e con tutte 10 riesce ad andarci letto Fa 10 approcci di giorno per strada, tutti di seguito e riesce ad andare letto con tutte 10 queste ragazze Non esiste, questa cosa, ok, esiste la possibilità di andare letto anche con 10 ragazzi in un mese, anche di più, si può Ma non saranno tutti gli approcci che fai, ci saranno delle ragazze con le quali parlerai per 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti Alcune di cui prendi il numero, alcune di cui non prendi il numero, alcune le rivedrai appuntento Nel momento in cui arrivi appuntento, se sei competente, sei sviluppato competenza Quindi non perché sei portato, perché ti porti tu da solo a sviluppare competenza, facendo pratica, imparando le cose, formandoti, agendo, continuando a correggerti, non mollando Adesso lo vediamo in parte in questo video, nel momento in cui arrivi a un punto di competenza, gli appuntenti possono andare bene praticamente il 100% delle volte Poi può essere delle volte, capita che io delle volte faccio gli appuntenti dove dico, che lo capisco già io, quando una ragazza ha poca esperienza Che quindi magari non ha avuto, potresti stare qua a fare tutta quanta la digressione però Non ha avuto tanta esperienza a livello di relazioni E mi fermo qua, perché sennò poi diventa lungo il concetto Nel momento in cui capisco che la ragazza non ha esperienza, non ha tanto senso andare ad un appuntento Perché so già che tanto o ci vorranno mille appuntenti per andarci a letto, oppure non ne vale la pena Poi ci arrivi al bacio, lei non aveva esperienza, devo sentire un bacio che non è piacevole Se una ragazza non ha esperienza, non sa baciare, è una cosa che non ne vale neanche a pena Fai 20 appuntenti, 5 appuntenti per poi ottenere un bacio che non ne vale la pena Poi a letto ci fanno altri milioni di appuntenti Quindi quando capisco che una ragazza non ha esperienza, di solito non ci vado all'appuntamento Anche se potrei andarci, però delle volte mi dicono, sì dai andiamoci allo stesso appuntento Quindi magari delle volte può essere che vai ad un appuntento e magari la ragazza non ha esperienza Quindi in quel caso che l'appuntamento non finisce, che si va letto Magari si potrebbe fare che al secondo, al terzo, però non è questo il concetto Nel momento in cui la ragazza ha un minimo di esperienza Puoi riuscire ad andare certo il 100% alle volte, che sia il primo, che sia il secondo appuntento A me non è mai capitato di far sesso al terzo appuntento con una ragazza Quindi il concetto che volevo dire in questo video è che inizialmente per sviluppare Questa competenza che poi ti permette di andare in buca il 100% alle volte Inizialmente ti devi bruciare alcune ragazze, alcune possono essere anche tante E bisogna accettare questa cosa, questa fase iniziale Dove inizialmente ti devi bruciare alcune ragazze, anche alcune occasioni d'oro Dove ti mangierai le mani a pensarci a distanza di anni E che però sono necessarie per poi non bruciarti più nessuna ragazza per tutto il resto della vita Io ho fatto questo ragionamento in un corso a vivo di recente Dove c'era uno dei nuovi coach per i corsi a vivo Che tengono i corsi a vivo oltre a me E che vedeva, come io ormai lo vedo dal 2018 Che nei corsi a vivo, tante volte, non sempre È molto raro che effettivamente uno ottiene un primo appuntento E fa già subito il primo appuntamento, il primo appuntento istantaneo Lo fa subito perfetto e riesce ad andare a letto con la ragazza Molto improbabile È successo però, molto improbabile Prima di solito bisogna bruciarsi qualche appuntamento Per capire effettivamente sulla propria pelle quali sono gli errori da non fare Mi ricordo gli inizi, i primi corsi a vivo Dicevano, ma che puttana, per se che si vede tutte queste occasioni che si bruciano gli studenti Perché l'ho già visto io questa cosa qua sulla mia esperienza agli inizi Quindi mi ricordo tutte le ragazze che mi sono dovuto bruciare per arrivare a un punto di competenza Quindi sarebbe più bello se non dovessi vedere tutte le altre altre gente che si brucia le ragazze Potrei fare miliardi di esempi Però io ovviamente se mi fossi bruciato tutte le ragazze degli inizi Non è un'esagerazione Almeno un cento ragazze in più me le sarei portate a letto E non è un'esagerazione Perché agli inizi, poi non sto dicendo che dovrei bruciare cento ragazze A cento ragazze intendo cento appuntamenti Quindi magari sto esagerando però anche no Perché se contiamo che gli appuntamenti istantanei Tante volte potevo effettivamente andare fino in fondo Però all'inizio di nuova esperienza non sapevo cosa dovevo fare E quindi ce le si brucia Però ci si brucia Alcune ragazze agli inizi Ti mangerai le mani Alcune ragazze negli inizi ci penso Dico porca che occasione d'oro Era in quella ragazza che figa che era E però me la sono bruciata Perché poi impari e non te le bruci più nessuna Per tutto il resto della vita Quindi questo qua è il concetto che volevo dire nel video Ovvero appunto agli inizi Te le dovrai bruciare alcune Per poi non imparare dai tuoi errori E non bruciartene più nessuna per tutto il resto della tua vita Quando sbagli con una ragazza Quando fai un errore Che sia l'appuntento Che sia nell'interazione iniziale In un approccio per la strada Mi prendi 10-15 minuti di conversazione Quando commetti un errore con una ragazza Devi se quell'errore poi ti fa bruciare l'interazione O l'appuntamento Devi semplicemente Uno dei segreti Non è uno dei segreti In questo caso è il segreto Per andare veloce Migliorare velocemente E arrivare Poi effettivamente a destinazione È il non tentare di recuperare la situazione È semplicemente capire l'errore Anche perché tanto la maggior parte di volte non è recuperabile Delle volte sono recuperabili Le situazioni ma la maggior parte di volte non sono neanche recuperabili Quindi in realtà è proprio un mindset sbagliato E poi tiene nell'insuccesso La maggior parte di uomini Semplicemente capire l'errore Metterselo nel proprio bagaglio di esperienze Per non ripeterlo Più la volta successiva Con la prossima ragazza E passare poi alla prossima ragazza Perché tantissime persone tentano di recuperare sempre le ragazze Perché non hanno nessun'altra ragazza Perché conoscono una ragazza all'anno Una ragazza ogni due anni Che non le conoscono neanche attivamente Non è che escono a conoscere ragazze La maggior parte di uomini La maggior parte di uomini aspettano e sperano Stanno nella propria cerchia di conoscenze Di amici aspettano e sperano prima o poi qualcuna Gli capita E poi tentano di fare a tutti i costi Con quella ragazza lì Poi commettono gli errori Tentano di recuperare con quella Tutto quanto sbagliato Bisogna conoscere nuove ragazze Costantemente e regolarmente In questo modo Si va veloci E anche conoscere una ragazza a settimana È niente Non è assolutamente niente Bisogna conoscere diverse ragazze Ogni giorno Ora non per forza ogni giorno Ma comunque 10, 15, 20 ragazze nuove Ogni settimana Qualcuno si intende approcciare Un approccio può anche essere un approccio Che dura due secondi E la ragazza ti rifiuta Ma quantomeno Conosce tutte le settimane 10, 20, 25 ragazze Altrimenti non si va Assolutamente da nessuna parte Se gli inizi Non è che devi puntare subito a fare 20, 30, 800 approcci In una settimana Però già Un buon punto di partenza Sarebbe per esempio Una decina di approcci Alla settimana In questo modo Tutte volte Hai la possibilità di capire Cosa stai sbagliando In realtà non c'è possibilità di capire Cosa stai sbagliando Nel momento in cui Non hai la formazione Alla base Perché nel momento in cui Non sai quello che devi fare Fai un errore Non sai cosa stai facendo Non hai modo di andare a Controllare la risposta A qualche parte Quindi non c'è modo poi Di migliorare Quindi alla base Chiaramente ci deve essere La formazione da un metodo Che sia giusto Ed un metodo è giusto O sbagliato Perché produce risultati O non produce risultati Ok Quindi un metodo giusto Perché produce risultati Chi ha il videocorso D'approccio A camera diretto Chi ha gli altri miei videocorsi In descrizione con scritto Quali risultati Puoi ottenere con i miei corsi Sono lì da vedere Ci sono testimonianze scritte Videotestimonianze Ci sono tantissime Stiamo qua A dilungareci su questo discorso Però Alla base Formarsi da un metodo giusto Nel momento in cui Ti formi da un metodo giusto Applicare Tutte volte cerchi a correggere Mettiamo E fai un errore All'appuntamento Ok Ti vai a guardare Per esempio Dentro il videocorso D'approccio Alla camera diretto La lezione sul primo appuntamento Perché la risposta L'errore Lo capisci Ascoltandoti di nuovo Quale lezione Paragonando la tua esperienza A tutto quanto il contenuto Di quella lezione specifica Per esempio In questo caso La lezione sul primo appuntamento Ma se non c'è una formazione Alla base Non c'è possibilità poi Tutte volte di capire l'errore Ma nel momento in cui capisci Quale errore stai commettendo Con una ragazza Per esempio Un appuntamento In un approccio iniziale Su Tinder Quando scrivi la frase approccio Nel fatto e non ottieni match Su Tinder Quindi hai le foto sbagliate Quindi nel momento in cui capisci Quale è l'errore Non stare a tentare Di recuperare tutte le volte La ragazza Capisci errore Per non ripeterlo Più la volta dopo Uno dei mindset Che non è che mi è utile È che è così Cioè si fa così Cioè chi non ha a mente queste cose Chi non ha questo tipo di mentalità Fallisce Basta Non è che c'è questo modo di pensare O c'è l'altro Che ti produce Con questo risultato Però magari Lo produce un po' più evidentemente No Che non c'è altro modo Quindi uno dei mindset Che Il mindset Che serve per avere risultati In questo caso In realtà in tantissimi ambiti di vita È cercare di fare gli errori Il più velocemente possibile Chiaro? E Quando si fanno degli errori Non bisogna avere il focus Sull'errore Sullo Oh mio dio Ho sbagliato Madonna Che cazzo Non sono portato Cosa pensavano gli altri E continuare ad autoflagellarsi Con Oh mio dio Ho sbagliato Quindi L'errore È parte del riuscire Non è l'opposto Del riuscire Che inizialmente Sbagli Correggi Sbagli Correggi Sbagli Correggi A volte fai un pochino giusto Sbagli Correggi Finché a un certo punto Fai tutto giusto E poi fai tutto giusto Per tutta la vita E tutta la vita Poi per goderti I frutti E i tuoi risultati Io se vado A durare un primo appuntento A meno che Non sono già consapevole Dall'inizio Che magari la ragazza Ha poca esperienza Però mi dico Ma si dai Proviamo lo stesso Vediamo che succede Puntualmente poi Praticamente quasi sempre Ragionare Delle volte invece Magari la ragazza Non aveva esperienza Però magari Non so Magari sono il primo Per lei O il secondo per lei Quindi ci può essere Delle volte Magari per quello Delle volte infatti Dico Magari so che la ragazza Ha poca esperienza Però dico Ma si dai Diamo lo stesso appuntento Non si sa mai Però di base Quando vado Da un primo appuntento 90-95% Le volte L'appuntamento Finisce Che si va detto insieme O al primo O al secondo appuntento Ripeto Io non ho mai fatto sesso Al terzo appuntento Perché nel momento In cui fai le cose fatte correttamente In realtà La maggior parte È sempre la prima appuntento Ripeto Se fai le cose fatte Correttamente Quindi Come ho detto Nel momento in cui Commetti un errore Uno dei segreti È non stare a Dirige le tue attenzioni Verso Oh mio dio Ho fatto errore Dirige le tue attenzioni Verso Che cosa Ho sbagliato Per il modo che lo correggo E non lo ripeto più La volta successiva Una persona che Non so In uno sport Per esempio Non so Mettiamo uno che deve imparare A tirare con Con la mazza da golf Io non ho mai giocato a golf Però I principi sono gli stessi Ok Inizialmente Sicuramente Uno non colpisce La pallina Con la mazza da golf Magari è troppo a destra Troppo a sinistra Poi troppo forte Poi troppo a troppo vento Tirerà una marea di volte In maniera sbagliata Delle volte Inizia col piede Sfuggita Le persone che giocano A livelli mondiali a golf Ripeto Non conosco il golf Non conosco come sport So com'è A livello di Diciamo Di come appare da fuori Però non conosco Il suo tipo di dettaglio Ma perché i principi Del successo In qualsiasi ambito Sono gli stessi Ok Per quello Sono delle dinamiche comuni Che si possono studiare E imparare Per poi Ottenere risultati Quindi le persone Imparano qualcosa Dalle cose più basiche Dall'imparare a guidare Quando si impara a guidare Non è che tutte le volte Le persone non imparano mai a guidare Sono poche di base Rispetto alla popolazione totale Però le persone che Non imparano a guidare Perché magari Accendo la macchina E si spegne subito Non sono portato Ma io vado in ansia Vado in angoscia E così No Devi semplicemente Correggere l'errore Tutti quanti Penso la maggior parte Le persone che Guarda questo video Sappia guidare Con la macchina Quando commettevi un errore Semplicemente Correggevi l'errore Finché poi dopo Non commettevi più errori Così come nell'imparare a guidare In qualsiasi cosa Quindi bisogna mettere il focus Sul imparare Dall'errore che si è commesso Per non ripeterlo più La volta successiva E andare All'esperienza successiva In questo caso Alla ragazza successiva Vorresti vivere Un'esperienza unica Che ti trasformerà In un uomo top 1% In grado di finire a letto Con qualsiasi ragazza A tua voglia In poche ore Grazie alla guida Di un esperto Che ti dirà Cosa dire E cosa fare in tempo reale Se si Trovi tutto questo Nei nuovissimi Corsi dal vivo A Dubai Direttamente con me Luca Fondatore di Approcciala.it Per chi si iscrive Entro il 30 novembre Riceve due bonus Il primo È il nuovo videocorso Inedito Rimorchiare a Dubai Il secondo È un giorno di corso extra In regalo Dal valore di 1500 euro Le iscrizioni Chiudono il 30 novembre O esaurimento Dei tre posti disponibili Clicca sul link Qui sotto in descrizione Per maggiori informazioni Hai domande o dubbi Scrivi gratis Su Whatsapp A un nostro consulente esperto Anche qui trovi il link Cliccando qui sotto In descrizione Diaper In игрale In intacta Salio Rail In 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 Ninja In